Bella raga, battiamo il Frosinone 3 a 0, doppietta di Keita, godi Lautaro Martinez facciamo il nostro dovere, niente di che ragazzi, per noi vincere queste partite deve essere la normalità so che negli ultimi anni non è la normalità neanche battere queste squadrette in casa riuscivamo a incartarci anche con loro, però dai adesso abbiamo un'altra dimensione come squadra quindi affrontiamo meglio anche queste partite perché la qualità della squadra è nettamente superiore finalmente con grande piacere mi si è svegliato Keita, era ora perché io ho uno col talento di Keita che dovrebbe spaccare le partite con quei guizzi che c'ha, puttana miseria, si perde sempre in pizzi e merletti che non servono a niente e invece oggi finalmente è stato incisivo perché due gol a un assist a tanta roba per carità era il Frosinone di fronte, però cominciamo un attimino a mettere un po' di fieno in cascina no Keita Baldè? Abbiamo visto un Lautaro Martinez che si conferma talento d'altissimo livello di quelli da coltivare bene, noi nella nostra storia non siamo mai stati bravi a coltivare i talenti ma magari per la legge dei grandi numeri prima o poi ci andrà bene e pescheremo un grandissimo giocatore perché qui si parla delle potenzialità di un grandissimo bomber, questo ha tutto per fare il centro avanti centro avanti completo, somiglia a Daghero e un giocatore d'alto livello può diventare speriamo che non si perda Milano fra mignotte e bevute per il resto ottimo Politano come sempre ma non c'è neanche tanto da commentare questa partita più che altro questi sono risultati che intristiscono i criticoni perché si devono rimettere buoni lì naturalmente nulla da preoccuparsi perché loro sono già caldi per il Tottenham e la Roma ma capisco che ogni volta che l'Inter vince è dura per loro poi il bello è che si professano anche interisti io non seguo mai gli altri youtuber perché sinceramente me ne sbatto il cazzo altamente io lo faccio perché mi dà gusto parlare dell'Inter e mi dà gusto condividere l'Inter con voi quelli che mi seguono e tutto però mi chiedo come cazzo fate a seguire certi buffoni mi ha suggerito di vedere un paio di video me li sono andati a vedere per curiosità perché uno mi è spuntato fuori su Twitter un altro mi l'avete suggerito voi che mi commentate io non so uno che si lamenta sempre dei giocatori che sappiamo di Cardi, di Skriniar sembra che lo fa apposta togli il sembra l'altro che si lamentava dei moduli che parlava dei moduli perché se fai questo modulo perdi per forza ma quanto male gli ha fatto al culo le sette vittorie consecutive questi sarebbero interisti io posso capire un interista per carità anch'io mi incazzo dopo una partita come quella con l'Atalanta però non se vengo da sette vittorie di fila mi incazzo se perdo due o tre partite di fila mi incazzo se perdo in casa col Frosinone mi incazzo ma non si può fare delle buffonate delle sceneggiate solo per acchiappare views acchiappare like e così comunque contenti voi l'importante è che sappiate che state seguendo dei buffoni poi per il resto non c'è problema abbiamo fatto un buon rodaggio in vista della sfida col Tottenham raga adesso si comincia belli tosti la partita è quella che ti misurano la pressione che si vede ti misurano il polso si vede quanto sono grosse le palle perché andare a giocare a Londra sarà tostissima e anche spero abbastanza esaltante mi auguro che riusciamo a portare a casa sto cazzo di pareggio l'importante è giocare la partita non cagati cioè non c'è nessun motivo di stare cagati sicuramente il pubblico spingerà spingerà forte ma noi dobbiamo ribattere colpo su colpo perché che cazzo abbiamo da perdere possiamo perdere la partita ma non vuol dire che abbiamo perso la qualificazione perché abbiamo ancora la possibilità di battere il PSV in Doven e il Tottenham deve battere il Barcellona a casa del Barcellona comunque sia quindi belli calmini giochiamoci questa partita intanto abbiamo fatto tre punti in campionato che al momento ci catapuntano al secondo posto poi vediamo cazzo fa il Napoli probabilmente vincerà comunque siamo lì bella raga belli pronti duri cazzutti sempre a lottare che la stagione è tosta bella raga per me c'è solo l'Inter che c'è solo l'Inter che c'è solo l'Inter che c'è solo l'Inter